Ciao, sono Alice! Ecco finalmente l'anteprima del nuovo volantino Eurospin! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Ehi! Perché non provi la versione online? Basta cliccare sul tallino in alto a destra! Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in impostazioni e scegli la velocità di riproduzione! Su TrovaVolantini.it Le offerte della tua città A portata di un click! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su TrovaVolantini.it Go! Grazie! 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 Lo so che vuoi vedere l'anteprima Eurosteen Non manca tanto, dai! Ti piace MDI? Continua a seguirci e vedrai l'anteprima prima di tutti Ehi! Ricordati che giovedì uscirà il nuovo volantino Lidl Non perderti l'anteprima Che ne pensi dei prodotti Eurospin? Perché non scrivi nei commenti? Dai! Grazie a tutti E tu, in quale Eurospin vai? Scrivilo nei commenti Eurospin vai? 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.